TG12, ben trovati, edizione di sabato 2 marzo. Andiamo a sentire subito i principali titoli della giornata. Questi dunque i principali titoli di questa edizione. Lo avete sentito, partiamo dalla vertenza del Policlinico. La direzione della struttura presenta ricorso contro la sentenza di fallimento, mentre i lavoratori attendono gli ammortizzatori sociali, si riducono i turi di lavoro e il clima all'interno della struttura si fa sempre più teso. Ci racconta tutto Sandra Sanna. e organizzazioni sindacali dovranno avere una risposta. Sembra comunque che la pratica sia già rientrata in città. Stipendi non pagati, turni di lavoro sempre più ridotti, ricorsi e sentenze di fallimento non aiutano certo il clima all'interno della clinica, dove si continua a lavorare solo con un accreditamento regionale, quello ambulatoriale. Si racconta di disagi dovuti e incomprensioni tra la direzione operativa e i lavoratori, che non aiutano a distendere un clima già atteso per ovvi motivi, non ultimi quelli economici di persone con famiglie a carico, che ormai da 60 giorni sono senza soldi. E ancora serrature cambiate, lavoratori che non riescono a rientrare nei propri uffici e che sono obbligati a stazionare nei corridoi per l'intera durata del già risicato orario di lavoro. Insomma, un clima di vero malessere che inevitabilmente si trasmette all'utenza, che non ottiene risposte anche alle più semplici esigenze, come quella di una cartella clinica. Anche lo sblocco delle disponibilità finanziarie, che il curatore fallimentare sta cercando di ottenere dalla TS per 400 mila euro e dagli istituti di credito per 600 mila euro, si inserisce in una situazione di difficile gestione. Cambiamo pagina, 39 militari della Brigata Sassari al comando del generale Andrea Di Stasio impiegati con servizi di vigilanza e prevenzione nei siti e obiettivi sensibili di Roma. Disarmato un ventenne che minacciava i passeggeri della metro con un coltello. Sentiamo. Prosegue a Roma l'attività del raggruppamento Lazio-Abruzzo guidato al generale Andrea Di Stasio, comandante della Brigata Sassari. 39 militari impiegati per le eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità con servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Per lustrazioni e pattugliamenti sono svolti prevalentemente nelle aree del Campo Nomadi di Via Salviati, nella periferia di Torsapienza, nel Campo Rom di Castel Romano su Via Pontina. Una vera e propria task force flessibile e prontamente disponibile, con una capacità di intervento tale da garantire risposte immediate a situazioni d'emergenza temporanee. I soldati dell'esercito effettuano azioni insieme alle forze dell'ordine e agli agenti di polizia locale già presenti all'ingresso dei due insediamenti. L'ultimo intervento che ha visto protagonisti Sassarini ha portato all'arresto di uno straniero di vent'anni che stava seminando il panico tra i passanti della metro, minacciandoli con un coltello immobilizzato. Il giovane è stato quindi disarmato e consegnato a una pattuglia del commissariato Trevi che lo ha tratto in arresto. Il giovane denunciato per porto abusivo di oggetti e atti ad offendere dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E ora siamo a Sassari, un nuovo parco in città. Anche quest'anno il comune di Sassari, aderendo alla giornata dell'albero, ha bonificato un'area in Via Berlinguer. Piantando 90 alberi. Si tratta del progetto 1x10 dedicato ai nuovi nati, presenti questa mattina alla cerimonia infatti le famiglie con i bambini classe 2017. Vediamo. Il comune di Sassari aderisce anche quest'anno alla giornata dell'albero, l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con le regioni, l'Anci, l'Uncem, il Corpo Forestale dello Stato e l'enteforeste della Sardegna e nasce un nuovo spazio verde in città. Il comune di Sassari ha ripulito e bonificato un'area in Via Berlinguer inaugurata questa mattina. La zona green è dedicata ai nati nel 2017. Alla cerimonia infatti hanno partecipato le famiglie con i piccoli classe 2017. Il parco 1x10 edizione 2018 ha ora 90 nuovi alberi, tutte le specie del Mediterraneo. Anche quest'anno il comune ha dedicato ogni albero a 10 bambini. Un'iniziativa che celebra le nuove vite e fa nascere in città, aree verdi, che l'amministrazione porta avanti da diversi anni, con l'obiettivo di perseguire attraverso la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio arboreo e poschivo, l'attuazione del protocollo di Chioto e le politiche di riduzione delle emissioni di CO2, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Questa mattina, oltre alle famiglie dipendenti del settore ambiente, rappresenta l'assessore e vice sindaco Fabio Pinna. Un concerto polifonico e singoli musicisti con il fine di raccogliere fondi per la comunità terapeutica La Crucca, colpita lo scorso gennaio da un importante furto di bestiame. L'iniziativa del maestro Vincenzo Cossu, vi parteciperanno tra gli altri la cantante Maria Grazia Cherchi e il suonatore di La Meddas Luigi Lai. Marco Sanna. Un grande concerto di solidarietà per riparare i danni subiti dalla comunità terapeutica La Crucca nella Nurra di Sassari, lo scorso gennaio, quando dall'azienda comunitaria sparirono per un furto numerosi capi di bestiame per un valore di oltre 100.000 euro. L'iniziativa è del maestro di musica Vincenzo Cossu, direttore dell'insieme vocale Nuova Eufonia, che ha subito raccolto numerosi consensi fra colleghi musicisti. Un'iniziativa che noi abbiamo messo in campo con l'insieme vocale Nuova Eufonia, l'associazione del mio coro degli adulti, specializzata in musica da cinema, e in collaborazione con il coro polifono ecoturritano, con la corale studentesca Città di Sassari, che è l'altra corale che io dirigo, con il patrocino del Comune di Sassari e il sostegno della Fersaco, la federazione regionale delle corali studentesche. Avremo dei grandissimi ospiti, verranno Maria Giovanna Cherchi, il maestro di La Meddas Luigi Lai e Gavino Murgia. Il concerto del Saparadura si svolgerà la sera del 1 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari. L'evento è stato presentato in una conferenza stampa dal maestro Vincenzo Cossu, dal fondatore della comunità Donchino Pezzoli e dal responsabile della cruca Paolo Camicciottoli. Un dato di solidarietà perché i ragazzi sono rimasti molto male, è il lavoro della loro fatica che hanno portato via. Gli spacciatori gli hanno portato via la vita, adesso questi ladri gli portano via anche le loro pecore, i loro bovini, i loro suini, poi portati via tutto. Ed ora il Carnevale, martedì grasso all'insegna delle maschere e del divertimento. Torna a Sassari l'evento Carrasciari in corso, organizzato dall'associazione Tusitale, il corso con l'obiettivo di riaccendere il centro cittadino con occasioni di aggregazione, cultura ed intrattenimento. Valeria Secchi. Appuntamento per martedì grasso con Carrasciari al corso. L'evento parte del progetto di storytelling, racconti erranti e intende dar vita al centro di Sassari con una serie di iniziative dedicata al Carnevale. Reduci dal successo di Su morto morto il nostro Halloween, l'associazione Tusitala e il corso per la direzione artistica di Monica De Murtas propongono un pomeriggio all'insegna del divertimento con l'obiettivo di revocare antiche tradizioni e riscoprire il fascino del travestimento grazie ai costumi realizzati da Luisella Conti e Fabio Loi. Il corso, chiuso al traffico, si trasforma per l'occasione in un teatro a cielo aperto con effetti speciali e macchine del fumo. Maschere antiche appartenenti alla tradizione sarda e nazionale animeranno le vetrine dei negozi insieme ad attori e danzatrici per dar vita ad originali performance. Per i più piccoli un'area truccabimbi dove inventare la propria maschera con l'aiuto di professionisti del make-up artistico, ma anche uno spazio giochi con sparabolle e sparacoriandoli gestito dagli animatori dell'associazione ABC, che proporranno giochi interattivi, baby dance, micromagia, una merenda a base di frittelle in compagnia di Alice nel Paese delle Meraviglie e il cappellaio matto. L'obiettivo, dichiara Monica De Mortas, è quello di creare occasioni di aggregazione e cultura di intrattenimento tra le vie del centro storico, con iniziative che catalizzino l'interesse dei cittadini nel cuore di Sassari e restituiscano al quartiere più antico e prezioso della città l'immagine e il ruolo di centro vitale e propulsivo da vivere, frequentare e abitare. Al Teatro Verdi è andato in scena il concerto Musiche, vario pinte del duo Baldo con l'accompagnamento del soprano Maria Luigia Borsi, continua con successo la stagione I Grandi Interpreti della Musica. Roberto Mulas. Ritorna a Sassari al Teatro Verdi i concerti internazionali con la decima edizione della stagione I Grandi Interpreti della Musica. Ieri sera il pubblico del Verdi ha applaudito il concerto Musiche, vario pinte del duo Baldo, composto da Brad Rap al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, accompagnati dalla soprano Maria Luigia Borsi. In curiosire con l'umorismo, questa è la missione del duo Baldo. L'artista Brad Rap si è esibito con un prestigioso violino di testore del 1736. Tra i maggiori successi del duo Baldo ci sono l'invito della Fondazione Arpa per l'accompagnamento del tenore Andrea Boccelli nel 2004, i palcoscenici del Festival di Salisburgo, il Musashino Cultural Foundation di Tokyo, la Shanghai Concert Hall, il Teatro Grande di Brescia, i concerti dell'Associazione Musicale Lucchese e quelli della Società dei Concerti di Trieste. Il duo Baldo inoltre si è esibito durante il maxiconcerto Pax Mundi, in ricordo di Papa Giovanni Paolo II, trasmesso da Rai 2, nella trasmissione Tussiche e Vales su Canale 5. Gli spettacoli del duo Baldo sono molto richiesti anche negli USA, dove lo scorso anno è stata presentata una tournée di 34 date. Il progetto nasce dalla necessità di avvicinare il pubblico alla cosiddetta musica colta, ancora considerata un genere di nicchia, pur essendo nata per la gente comune. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva. In primo piano il rugby. L'amatori rugby Alghero si prepara per l'incontro con la Capitolina. In trasferta a Roma la squadra algherese tenta la scalata in classifica per il campionato di Serie A. Sentiamo. L'amatori rugby Alghero, seconda insieme a Catania e Prato, cerca un buon risultato in una gara difficile sul campo della capolista Capitolina. La gara è valevole per la tredicesima giornata del girone 3 del campionato di Serie A. Domenica, dopo un turno di stop per il 6 nazioni, si ritorna in campo per disputare la quarta giornata di ritorno, tredicesima del girone 3 del campionato di Serie A, che prevede le sfide tra le squadre di vertice. Se a Roma, infatti, verrà giocato il match tra Capitolina e Alghero, in Sicilia si affronteranno Catania e Prato, le altre due squadre che insieme agli algheresi occupano la seconda posizione con 38 punti. E proprio i toscani sono riusciti a battere la capolista nell'ultimo turno in casa, 28 a 18, stoppando così la Serie Positiva dei Laziali, attualmente a quota 44. La formazione romana e quella catanese devono ancora recuperare la partita che le avrebbe viste scontrarsi qualche tempo fa. L'impegno di domani non si preannuncia assolutamente facile. La Capitolina vinse anche nella partita di andata disputatasi lo scorso 4 novembre a Maria Pia, 19 a 25. Forrebbero restituire quanto subito in casa propria. Serra e compagni si stanno comportando bene in questo campionato che li vede neopromossi. Un secondo posto che prova il valore della squadra algherese, tra tante altre, e che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Capitolina e Alghero si incontreranno nello stadio di Via Flaminia con un rario di inizio posticipato alle ore 16. E prima di chiudere vi ricordo che dopo il TG vai in onda all'approfondimento, Sandra Sanna intervista Gavino Mele, Presidente dell'Associazione Blue Note Orchestra, che è presente alla nuova edizione di Jets Hop. Si chiude qui dunque questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui vi ricordo che potete rivedere questo TG sul nostro sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un Decoder Sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulla nostra pagina social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo domani la cronaca della settimana, l'informazione torna con i consueti orari lunedì. Arrivederci e buon fine settimana. Grazie. Grazie.